Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per gli spostamenti mattutini in A1 tra Calenzano e B1 variante verso nord, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 tutto verso Firenze e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per ritardo nella preparazione del treno e il regionale 18822 Arezzo Pistoia sta viaggiando con 22 minuti di ritardo. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in zona Castello e via del Padule, lavori alla rete idrica in via delle Montalve e alla fibra ottica in via Pistoiese. Buon versi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.